Sì, Geralt può essere anche tenerone, se vuole. Eh sì. Cos'hai scelto di fare con l'altro qui? Servire allontanato. L'ho ucciso, semplicemente. L'ho ucciso per il semplice motivo che avevo paura che tornasse a prendere la bambina. Ottimo, è quello che ho sempre fatto anche io, a posto. Sì, perché non mi è piaciuta la faccenda che ha detto, eh, mi hanno provocato e quindi mi è scappata la spada, no, e ho iniziato a ammazzarli tutti. Non funziona così, perché i Witcher non uccidono gli esseri umani. Ma lui si è divertito, perciò. Ma se non lo uccidi torno dalla ragazza, non lo so. È la mia prima run, come faccio a sapere? Evitamente erano sei, ma abbiamo burato due l'ultimo winter. È difficile vivere da non vivere, ma un sudo. Eh sì. Dai, gli diamo dei soldi. Questa mi sa che beve. Io l'ho fatto per la bambina, più che altro. No, ma... 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 ma perché? Witcher è un po' in vita, sempre sulla ruota, sulla pietra. Puoi venire e vedi a me a volte? Spero così. Cuidado, figlio. No. Come, child. We'll buy a bit of flour. Your aunt will whip up some pancakes. Sound good to you? Né, almeno Sì, no, comunque non mi piaceva per niente Quel Witcher lì Oh no Ok Salve a tutti ragazzi Io sono Niki e siamo ritornati Su The Witcher 3 Che novità, eh E niente, oggi ci occuperemo Più che altro delle isole Skellige Tipo Devi parlare però Aspetta, che timido Che non va? Non va Questa cosa non mi piace Scusate, eh Facciamo una roba Allora, questa qua Che già che non mi... Che partiamo così Insomma Partiamo già male ragazzi, eh Ecco come volevo dire Non vi preoccupate Se ancora non vedete il video del libro Ma A breve lo faccio È che stavo aspettando Di avere un po' Un po' di tempo Perché tra L'uscita del libro Mi stanno arrivando Alcune copie Che devo firmare E poi dopo Insomma Devo distribuirle È un casino Molto lavoro Molto lavoro da fare Però si fa Dai Si fa volentieri Ok Allora Vediamo se Ma ci fa parlare Questo tizio Perché già prima No Perché non mi fai parlare Con lui Ti ha fatto di male A lui mi compare Lui no Cambiamo missione Facciamo così Magari No Non lo so Quando fa così Mi dà fastidio Eh Allora Cerco i fratelli Questo è Quenta Non ci interessa Allora Torniamo da Agile Prima Da questo Ci tornerò Poi Adesso che non mi parte Allora Agile Era Qui Parto dalla segheria Abbandonata In modo che poi ci arrivo Perfetto Perfetto Allora Tilia E si parte Verso la nuova Cavalcata Oddio Corrutilia Non è che Sono bravissima Però Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo di qua Grazie Pobriaco Sto cavallo Me ne Uh Ci siamo Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo C vuoi Mi chiamare Sto cavallo Cosa 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 Ci proviamo Ci proviamo Cosa Cosa a posto vabbè non sembra che ci sbaglieremo molto a parlare così lì la parlare non mi arriva a niente si spaventa? non mi pare non mi pare è e come faccio? no no forse così aspetta eh sinceramente non ho capito come devo fare non posso attaccare questo versaglio no così non ho fatto niente nulla più di questo? cosa posso fare? no non ho proprio capito come funziona questa missione comunque si è svegliato di nuovo dove va? aspetta 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 no ho togliato nulla nulla poco chiara anche questa missione comunque farlo spaventare come lo faccio a spaventare a questo? si è svegliato si è svegliato aspetta ci sono spegni accendi ah no non riesco a comprendere aspetta 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 non aspetta niente perchè non ah qua c'è una grotta però forse ci danno una mano non scelgono mai i momenti migliori dove vai? ma tutti si è piaciuto ci sono sette clani in Skelly in Skelly vorrebbe il rumore ma ma Sera si è tutto in vibrazione quindi sentirete sicuramente il rumore vale no questo non c'entra niente con quello lì Sera lì 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 vese niente It's simply not fitting to repeat such blush at your age. Oh, this? No. Ah, prima mi ha detto che posso usare questa roba per spaventarlo, però non lo dice più. Ma forse... Che cavallo si spaventa? No. Oh, sarò io che non sono fortunata oggi, ma non capisco come fare le missioni. Ah! Forse abbiamo capito, però deve dormire il tipo. Tipo, ti devi mettere a dormire. Non ho già parlato. Fallo andare a dormire, va. Questo lo spengo. Stop! Ah, così la spaventa... Guardalo! Ma che cavolo di maleducato! Sbaglio sempre. Si è spostato, si è spostato. Si è spostato, si è spostato. Due. Ok. Oh! Ho capito. Dai, 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 dai. Tre. Oh, se non ti viene così la voce. Eccolo! Eccolo! Realmente! Tres anni! Non una parola! Non una piccola! Non fino a oggi! Hai fatto mi perdere la mia voce! Papi? Si! Ma guarda te! Maledetto! Eh, Rutilia! Andiamo! Andiamo! Andiamo, gioia! No, non si passa di qua, Rutilia! No, non si passa di qua, Rutilia! Sai che è qua sopra! O è qua! Ciao, Kyle! E' qua sotto! Non è questo, è questo qua! Perfetto! Ora! Tornando sempre alle missioni Skellige, perché oggi faremo Skellige. Io voglio fare questa qua, quella con Lothar, però ho avuto il problema prima che Lothar non voleva parlare. Questo, vabbè, dovevo solo capire quale magia era meglio usare. Anche se è finita malissimo! o no, però... ... ... Grazie.